Tutto pronto ad Arcade, domani come di consueto si brucerà il pane vin. Per la 52esima edizione si stanno ultimando gli ultimi preparativi. La catasta di tralci di vite ha superato i 10 metri, sarà il pane vin più grande di tutta la marca. Una festa studiata nei minimi dettagli anche sotto l'aspetto della sicurezza, visto il gran numero di partecipanti. Chiaramente tutti gli accessi sono tutti sbarrati, abbiamo ovviamente carabinieri, polizia, volontari carabinieri, abbiamo 30 uomini del servizio radio degli alpini di Treviso più i miei alpini. Quanta gente è attesa? Lo scorso anno abbiamo avuto sui 6.000 presenze, quest'anno conterei di fare il botto, spero che vengano almeno 10.000 persone. Chi lo accenderà questo pane vin? Da quasi 20 anni e forse anche più io e Zaia. Per quanto riguarda la polemica di chi come ogni anno si è scagliato contro l'inquinamento prodotto dai roghi dell'epifania, il sindaco tende a sdramatizzare. Beh io credo che questa comunque sia un'ipocrisia che ogni anno si ripete, non penso che il mio pane vin che espori il PM10 per un danno all'umanità per tutto l'anno solare. Il sindaco ci tiene a sottolineare che di pane vin ad Arcade ce ne sarà solo uno, chi lo realizzerà dovrà fare molta attenzione. Assolutamente sì perché c'è un'ordinanza ormai che vige da diversi anni che vieta a chiunque di fare accensioni al default di questa. L'ammenda prevista è dai 25 a 500 euro. Le fiamme del Falò su cui la sera del 5 gennaio vengono distrutte simbolicamente le sfortune del passato, fa tenere tutti con il naso all'insù per osservare la direzione delle faville che si levano dal cumulo di sterpi e legno per riuscire a capire che anno ci aspetta. Io mi auguro che quest'anno, visto che sono andati a mattina quasi tutti gli anni, che vado una sera, che è pieno e poi entra la gallera.